L'abbiamo preso. Oh, Harry, la coppa è la passaporta. Non ci prenderete mai, baby! Vai mettere il cazzo dentro un ventolone là. Dove lo trovate voi? Una guida così, ancora non ci. Bello stu l'aggesto. Cosa facciamo oggi? Prendiamo l'acqua! Sì! E chi è la più figa? Chi è la più figa? Sì, benvenuti a un nuovo video, sono Emilio e oggi finalmente siamo tornati dopo tantissimi anni, anni no perché non sono passati anni ma ci siamo andati vicino, in un nuovo vlog. E vieni ragazzi, oggi stiamo andando a Verona, andiamo a visitare il parco Giardino Sicurta che si trova vicino Verona, quindi non è proprio Verona. Il problema è che tipo ieri c'erano 744 gradi, ci bruciavamo proprio stare al sole e oggi c'è un tempo di merda. Tipo più o meno una cosa del genere, raga la prendiamo tutta l'acqua, tutta noi. Di chi è l'acqua? Nostra! Di chi è? Nostra! Cosa facciamo oggi? Prendiamo l'acqua! Sì! Comunque con me c'è il buon Mirchetto che l'avete conosciuto nel vlog di Roma. Saluta Antonio! Bella! Bella raga! E' il buon Jacopello! Guardatelo! Che l'avete conosciuto un sacco! Saluta Beto che ti sta guardando! No Beto, vaffanculo! Ti ha mandato affanculo Beto! Questa la gamba! Ha detto che sei stronzo eh Beto! Ha detto che sei proprio un figlio che non ti dico eh! Sì! Per chi vuole essere il numero di Beto adesso ve lo diamo! Hola 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 mi ci butto nell'aiola! Siamo appena arrivati al parco sicurità che l'abbiamo trovato anche subito parcheggio gratis, navetta gratis e ci sarà l'inculata di sicuro! Perché non ci viene più nessuno! Perché non ci crede nessuno che sia in Italia se tutto gratis! Hai già acquistato il biglietto santa la coda? No noi no! Che cazzo hai acquistato te? Guarda Mirchetto secondo te hai acquistato il biglietto uno così? Hai acquistato il biglietto? Due! Hai acquistato i due? Raga si esatto! Andiamo a noleggio! Dobbiamo però andare a quello! Prendiamo il caddy! 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 Bella raga! Siamo tornati merda! Raga no! Abbiamo noleggiato il caddy! La la la! Ci sono le strisce vecchio! Salve signora! Cosa cazzo vuole? Benvenuta al parco giardino! Vi spostate! Lo sai che i papàveri sono alti alti alti! L'abbiamo preso! Siamo sobri qua! Siamo sobri! Salve! Oh! Vi dovete spostare! Siamo tutti forti qua! Oh vecchio! Non me lo... Funziona da dio! Bella raga! Ma c'è anche la braccia! Siamo tornati in merda! Ragazzi c'è una tenuta sembra un goccato! Un goccato! Adesso vai a fare il bilanciamento! Fare il bilanciamento che ti voglio! Margioglio col bene che ti voglio! Vedai non finirà! Vai qua cassa! Qua c'è fisso eh! Ci fermiamo! Ci fermiamo! Ci fermiamo! Facciamo un parcheggio! Ma tu sei bambi! Ma lui è stronzo! Ehi! Il gallo rocchettaro! Stai in forma a zio! Ciao avventuriero! Niente raga! C'erano questi tizi che mi hanno chiesto di fargli una foto! Va bene! Poi è arrivato un'altra tip! Mi fa ehm... Tu che hai occhio! Mi fai una foto? Mai usato una reflex in vita mia? Io ho occhio! Oh my cazzo! Allora raga! Una curiosità del parco che l'ho studiata! Perché io sono studioso! E nel 2013 ha vinto il premio come il parco migliore d'Italia! Nel 2015 come il secondo parco più bello d'Europa! E niente! Neanche da qua riesco a vedere la vastità del cazzo che me ne frega! Siamo nella valle dei Daini raga! Ma come stai? Come ti chiami? Italia tua mano da qua! Ti chiami? Fammi vedere la minchia! Tu? No eh! Dov'hai? Guarda ragazzi! L'uomo che fa retto! Passa lì! Passa lì! Abbiamo un billy! Sembra quello del... Sembra il camion della spazzatura! Si faccia la curva che è ricchiantezza! Mamma mia! Si parla... Oh ragazzi! Pendenza del 10%! Oh! Rallenta! Curva come tu! Oh! Premi rock! Fesso! Fesso! Raga! Non va un cazzo! Non va! Non c'ha... Abbiamo la guida sulle piante che ci sono! Ok! Illuminaci! Ok! Cipollotti! Qua? Qua abbiamo fatto l'orto! Cos'è? Cos'è questo? Qua è quando... Si donna ancora seminare! Ok! Questa è erba! Questa qua cos'è? La mandraccola! Melissa! Melissa! Fumicata però! Fumicata va bene! Questa qua cos'è? Menta! Menta... Menta... Questa qua va bene per il mojito! Questa? Lavanda gastrica! Perfetto! Questa è una struttura del 1882 fatta da Vincent vancazza! Vincent vancazza! E questa qua devo dire che è nata tutta! È molto acquatica come cosa? E ha vinto tutto! Perfetto! Là c'è il leone di Lernia! Dove lo trovate voi? Una guida così ancora no! Noi siamo sempre stati fortunati! Facciamo paura! Parcheggio in quinta fila! La più brutta parcheggiata mai vista! Chi se la fa? La facciamo noi! Raga siamo nel labirinto di Harry Potter! No io posso dire! Dov'è la coppa tre maghi? Oh che labirinto cazzo! Tutte le strade portano doppie binghella! Raga bello eh! Bellissimo sto labirinto comunque! Oh Harry! La coppa è una passaporta! Dove scappi? Ma dov'è la tipola? È la! Bella! Ciao! 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 Molto figo raga! Non ci prenderete mai Vivi! Oh suona per fargli capire chi comanda! Allora raga se troviamo la via lo riportiamo indietro poi andremo a mangiare anche perché abbiamo una fame della madonna e dopo faremo un bel giro a piedi Oh a sinistra pieno! C'è una signora che mi ha guardato bruttissimo! Va bene! Comunque raga niente abbiamo appena mangiato che tra l'altro abbiamo mangiato dei panini talmente brutti secchi da far schifo che non ve li consiglio manco per il cazzo! Vabbè stiamo andando all'avventura ci chiamiamo Donna Avventura mi vuoi dare la mano? Mi dare la mano! E' ricchione! E adesso scopriremo l'uomo delle caverne! Sentite il richiamo! Sì! Aspetta! Aspetta! Puoi ridere te eh! Ridi! 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 30 anni luttachini! 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 Proprio dal cesso! Vai mettere il cazzo dentro il vento lone là! Non sono dei pesci Jaco! Sono dei cammelli! Sono degli ippopotami! è bella però dagli una bistecca se ti spacchi il braccio pesa 70 kg bello stulaghetta avevo fatto l'outro della vita e me l'ha fermata con una bestemmia poi hai visto c'era lo specchio lì contro arrivando ma che ero io che son passato davanti pensai che mi sto arrivando adesso pensate con chi individui a coscire va bene quindi rifaccio per l'ennesima volta quindi come al solito vi ricordo iscrivetevi al canale, lasciate un commento un mi piace, fagli vedere come un mi piace iscrivetevi anche alla pagina facebook e instagram tutti i vari link dove qui sotto in descrizione noi signori ci vediamo alla prossima, ciao ciao ciao